Ciao a tutti amici di Moto.it, siamo di nuovo in partenza, questa volta si resta in Italia, andiamo in Sardegna a provare una delle novità più attese dell'anno, ovvero l'onda X-ADV. Una presentazione in Italia perché l'X-ADV è proprio nato in Italia, l'hanno voluto fortemente i tecnici, i designer e tutti i manager della filiale italiana, perché solo un genio come quello italico poteva immaginarsi una simile contaminazione, qualcosa che è stato abbastanza difficile da far digerire i giapponesi, piuttosto rigidi sulle loro posizioni e che non volevano accettare l'idea di uno scooter con delle capacità fuoristradistiche, con una cilindrata, una cubatura così elevata. Alla fine evidentemente la filiale italiana tenuta in grande considerazione ha avuto ragione e quello che è un concept che abbiamo visto due anni fa ad EICMA si è trasformata in un modello di cui avete visto la versione definitiva al Salone di Milano e che fra poco arriverà dai concessionari. Non mi nascondiamo che abbiamo una grande curiosità per questo modello e dalle chiacchiere sia fra gli addetti ai lavori sia con voi lettori e è emersa una grande curiosità anche da parte vostra, un certo interesse rispetto a un modello che sebbene in linea di massima non possiamo definire del tutto inedito perché ci ricordiamo da una concorrente di Honda un modello di piccola cilindrata che aveva le stesse caratterizzazioni, è sicuramente vero che un maxi scooter con questa caratterizzazione fuoristradistica fino adesso non si era mai visto. Diciamo che è un po' un esperimento che vuole riproporre quello che è il concept dei SUV sulle due ruote in maniera un pochino più dinamica e più agile rispetto a quello che è lo stereotipo della quattro ruote tutto terreno più votata la comodità e poco prestazionale. L'XDV infatti ha un'estetica molto raffinata caratterizzata in senso fuoristradistico ma che come le auto sicuramente propone una finitura, un livello di finitura molto lontano da quello che è la moto da fuoristrada che è fatta per andare in mezzo ai sassi sullo stralato e diciamocelo per cadere. L'XDV naturalmente invece è un mezzo molto più versatile che vuole venirvi incontro in città, essere ottimo per il turismo anche in coppia ma permettervi di affrontare le strade bianche con una certa serenità. Non abbiamo la minima intenzione di prendervi in giro e di dire che Honda stessa voglia proporla come una nuoto da fuoristrada specialistico anche perché semplicemente potete capire come non sia possibile guidare in piedi. Però da questa prova ci aspettiamo di trovare un mezzo che comunque si adatti piuttosto bene a percorsi starati poco impegnativi. Questa caratterizzazione diventa evidente una volta che si guarda la ciclistica. Facciamo un passo indietro, la base infatti è quella già ben nota che conosciamo tutti di Integra, quindi col bicilindrico da 750 cm3, 55 cavalli, 68 Nm di coppia e il meraviglioso cambio DCT. Un motore che rimane invariato ma che viene declinato su una piattaforma completamente inedita e che è stata ripensata anche rispetto a quello che è Integra, che probabilmente è il suo parente più prossimo, con una maggiore attenzione a un uso più versatile e soprattutto con qualche beneficio collaterale che adesso andiamo a vedere. Honda infatti sul XADV rinuncia a quella che è la caratteristica che lega tutta la piattaforma 750 DCT, ovvero la copiata di cerchi da 17 pollici. Rimane il 17 davantreno con un 120-70 come gommatura. Al posteriore, pur avendo un 160, quindi una copertura seria, adulta, il diametro del cerchio scende a 15 pollici, un po' per guadagnare l'escursione necessaria per poter affrontare un pochino di fuoristrada e un pochino per finalmente guadagnare quello spazio sotto sella che è sempre stata la nota dolente dell'Integra, criticato molto da tutti i suoi clienti, perché uno scooter senza il bando sotto sella è ritenuto a buona ragione un po' un controsenso, diciamo una forzatura. Ecco allora che questa caratterizzazione fuoristradistica che porta una luce a terra di 168 mm, quindi che permette di affrontare senza paura sterrati, non immaginatevi la mulattiera certo, ma anche sterrati relativamente impegnativi. Si porta dietro appunto una diversa definizione dal punto di vista ciclistico. Mono ammortizzatore e forcella rimangono. Arriva un nuovo impianto frenante molto più performante rispetto a quello che equipaggia la versione di Integra, con pinze radiali e naturalmente l'ABS, che però in questo caso, ancora per battere sul testo del fuoristrada, è disinseribile per quello che riguarda la ruota posteriore, per divertirvi oppure perché effettivamente può comunque servire, magari in una discesa, avere la possibilità di bloccare la ruota posteriore. Naturalmente abbiamo parlato in apertura di un occhio per il turismo in coppia. Sicuramente le possibilità turistiche ci sono perché grazie ai consumi ridottissimi, che parliamo di 27 km con un litro, che per un mezzo di questa cilindrata è un grande exploit. Il serbatoio consente più o meno un range di circa 300 km, quindi un mezzo sicuramente adatto alle gite fuori porta, anche di un certo impegno. In coppia perché sono previsti una serie di bagagli e perché la sella accoglie comodamente due persone. Una sella che si alza un pochino rispetto all'Italia e quindi è un pochino meno accessibile, volendo, nell'uso urbano, a quello cui siamo abituati dagli scooter. Si colloca 820 mm. È comunque disponibile come optional una versione ribassata, che completa un quadro di dotazione, chiamiamola così, periferica, di eccellenza. Perché se vi viene in mente uno scooter su cui ricordare un manubrio biconico in alluminio, quindi una caratterizzazione di nuovo fuori stradistica, oppure dei cerchi con raggi tangenziali, sempre in questo caso per offrire versatilità lontano dall'asfalto, ma in grado di montare cerchi tubeless, fatecelo sapere. Tutto questo per dire che la proposta Honda, che può piacere o non piacere, sicuramente crea grandi divisioni e non lascia indifferenti, è stata pensata, è sicuramente una proposta di rottura ed è stata pensata da chi la moto, lo scooter, lo usa e che allo stesso tempo fa del fuori strada. Sicuramente non sarà una butade con una caratterizzazione soltanto estetica, ma ci riserviamo di dirvi come va veramente al nostro ritorno. Nel frattempo, come al solito, vi invitiamo a farci le vostre domande direttamente su YouTube oppure sul sito. Scriveteci e vi daremo risposta direttamente nell'articolo, su Facebook o direttamente sul video. Ciao a tutti!